Roberto Piccoli, attaccante classe 2001, che è già un volto nuovo della nuova stagione sportiva, ma in realtà ha già esordito domenica con la maglia del Lecce. Roberto Piccoli arriva dall'Atalanta con la formula del prestito riscatto e conto riscatto. Nonostante la sua giovane età ha una notevole esperienza in Serie A, dove ha siglato anche otto reti, un passato in tutte le giovanili della nostra nazionale. Molto brevemente abbiamo colto un'opportunità di mercato, anche se noi lo avevamo attenzionato a diverso tempo, un giocatore conosciuto di grande prospettiva, di cui si parla un gran bene. Però, ripeto, nonostante più volte noi nelle conferenze stampe avevamo smentito l'arrivo di un altro attaccante, per noi poi si è presentata un'opportunità di prendere Roberto, che è un giocatore, un attaccante moderno, che si sposa pieno con il nostro sistema di gioco perché è un ragazzo, come ho detto prima, di prospettiva, ma ha delle caratteristiche importanti per noi perché ha un'ottima fisicità, un'ottima gamba, è un calciatore di grande movimento, che sa legare il gioco e come, seppur per pochi minuti, anche domenica ha fatto intravedere un ottimo potenziale e sono sicuro che ci darà una grande mano in questa stagione. Crediamo fortemente che lui sia capitato nel posto giusto perché Lecce, e sarò di parte, ma è una grandissima piazza, è una piazza passionale, una piazza calda che sa esaltare i propri calciatori e lui si ritrova in una società dove, la nostra storia lo dice, questa società con il proprio modello di lavoro sa esaltare i propri giovani, i giovani talenti e Roberto per noi è un talento. E credo che anche per lui sia una grande opportunità questa di Lecce perché si dice un gran bene, ogni anno si pensa che può essere la sua stagione, ma io ovviamente mi auguro che possa essere questa la sua consacrazione perché Lecce a livello di motivazionale è una realtà che ti dà sempre qualcosa in più e siamo convinti che lui possa fare benissimo. A proposito del mondo, quali sono le indicazioni che sta dando Lecce? Il mister mi dice che in alcune situazioni di legare il gioco con la squadra, cercare di andare da una parte all'altra e poi mi chiede anche di attaccare la profondità perché è una caratteristica che fa parte del mio repertorio e poi la cosa più importante è fare gola.